Pace bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! E' appena trascorsa la commemorazione dei defunti e il Vangelo ci offre uno stupendo insegnamento di Gesù sulla risurrezione dei morti. Noi ci soffermiamo su due punti che scandiamo aiutati da due domande. Come saremo in cielo? Riconosceremo i nostri cari? Gesù viene interpellato da alcuni sadducei i quali non credevano nella risurrezione e perciò lo provocano con un quesito insidioso. Di chi sarà moglie nella risurrezione? Una donna che ha avuto sette mariti successivi, tutti fratelli tra loro, i quali uno dopo l'altro sono morti? Gesù non cade nel tranello e risponde che i risorti nell'aldilà non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Come ha detto il Papa con questa risposta Gesù invita anzitutto i suoi interlocutori e anche noi a pensare che questa dimensione terrena in cui viviamo adesso non è l'unica dimensione ma ce n'è un'altra non più soggetta alla morte in cui si manifesterà pienamente che siamo figli di Dio. E questa vita eterna, beata, che ci è offerta in Cristo non è la semplice prosecuzione di questa vita liberata dei problemi e dalla morte, né è solo un potenziamento o un prolungamento delle gioie terrene e dei piaceri della carne, opinione diffusa in molte religioni eppure tra alcuni cristiani. L'altra vita è davvero un'altra vita, una vita di qualità diversa e un tuffarsi beati nell'oceano senza rive e senza fondo dell'amore e della felicità di Dio. Dal proposito sentite quanto sono belle le parole scritte da San Tommaso d'Aquino. La prima cosa che si compie nella vita eterna è l'unione dell'uomo con Dio. I santi nella patria possederanno perfettamente Dio, ne segue che giungeranno all'apice di ogni loro desiderio e che la loro gloria sarà superiore a quanto speravano. Tutto quello che può procurare felicità là è presente e in sommo grado, là ci sarà il massimo e più assoluto godimento perché si tratta del bene supremo, cioè di Dio. La vita eterna, infine, consiste nella gioconda fraternità di tutti i santi e sante. Sarà una comunione di spiriti estremamente deliziosa perché ognuno avrà tutti i beni di tutti gli altri. Ognuno amerà l'altro come se stesso e perciò godrà del bene altrui come proprio. Pensate che bello, miei cari. I santi dunque che già sono ora nel paradiso, conosciuti e non, partecipano di questa gioia. Nell'attesa della risurrezione della carne, promessa da Gesù alla fine dei tempi. Ricordate? Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sarà un ulteriore di più inimmaginabile perché è una novità preparata da Dio che non appartiene alle nostre categorie spazio-temporali. Un corpo spirituale, immortale, non soggetto alla corruzione, alle malattie. Pensate già all'assunzione al cielo di Maria in anima e corpo, al corpo risorto di Gesù, concreto, tangibile, eppure spirituale che passa a porte chiuse. Mie cari, cose che occhio mai vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore d'uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma facciamo un piccolo passino avanti. Questa limpida certezza sulla risurrezione si basa sulla fedeltà stessa di Dio, che è il Dio della vita. In effetti, ci ha ricordato il Papa, dietro l'interrogativo dei sadducei, se ne nasconde uno più profondo. Non solo di chi sarà moglie la vedova di sette mariti, ma di chi sarà la sua vita. È una domanda che tocca il cuore di tutti. Dopo questo pellegrinaggio terreno, che ne sarà della nostra vita? A chi apparterà la nostra vita? Apparterrà al nulla? Resterà nella morte? Gesù subito dopo risponde che la vita appartiene a Dio, il quale ci ama e si preoccupa tanto di noi, al punto da legare il suo nome al nostro. Nell'episodio di Mosè del Roveto Ardente, Dio si è rivelato come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e Gesù sottolinea Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Cosa ci dice questo? Qualcosa di bellissimo. Pensate, Dio lega il suo nome a quello degli uomini e delle donne. Io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco, di Giacobbe, il Dio di... ecco, ognuno può mettere il nome delle persone care, che hanno amato, che hanno creduto in Lui. Possiamo mettere il nostro nome, come se Lui portasse il nostro nome. È l'alleanza. Io sono il tuo Dio e noi possiamo dire tu sei il nostro Dio, tu sei il mio Dio. Ecco l'alleanza. Ecco la fedeltà di Dio, che non ci abbandona neanche nell'ora della morte. Ecco perché, miei cari i santi, le sante, sono andati sereni incontro alla morte. Santa Teresina ha detto, io non muoio, entro nella vita. Non è la morte che mi coglie, è il Signore che mi viene incontro. O Chiara Luce, che ha voluto farsi seppellire con l'abito da sposa, perché? Perché sapevano a chi andavano incontro. Non andavano incontro alla loro fine, ma al loro fine. Quell'amore che avevano conosciuto, servito, desiderato nell'arco di tutta la loro vita. Anche noi, miei cari, siamo chiamati a fare esperienza di questa alleanza bellissima, suggellata in Cristo, morto e risorto per noi. Già ora, nella preghiera, nei sacramenti, nella fraternità, noi incontriamo Gesù e il suo amore e possiamo pregustare qualcosa di questa vita risorta, di questa vita che profuma di vita, d'amore, di dono, che non avrà mai fine. Non solo, miei cari. Queste parole, in fondo, rispondono anche ad un'altra domanda. Ma in Dio ci riconosceremo? Se Dio si definisce il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vuol dire che Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi in Lui e sono proprio loro. Vuol dire che, in cielo, saremo noi, cioè il nostro io più profondo, la nostra anima, sussiste per sempre. Quindi in Lui ci ritroveremo, ritroveremo i nostri cari che si sono salvati. E non soltanto ci riconosceremo, ma partecipi della vita di Dio e della sua onniscienza, ci conosceremo gli uni con gli altri, riconosceremo i meriti gli uni degli altri, senza invidie né gelosie, guarderemo tutti con occhi nuovi, trasfigurati, senza più ombra di cattiveria, di male, di morte. Questo ci dice che i nostri legami non sono spezzati o annullati, ma sono trasformati. Vedete già ora, nella preghiera, nei sacramenti, noi continuiamo in qualche modo la comunione con i nostri cari, che sono in Dio, che non sono lontani su chissà quale pianeta, ma sono accanto a noi in un modo diverso, in una dimensione altra, e per mezzo di Gesù noi possiamo continuare ad essere in comunione con loro, ad aiutarci a sostenerci nella preghiera. Questo significa che in cielo noi ci ritroveremo e vivremo dei legami spiritualizzati, trasfigurati, divinizzati. D'altronde, miei cari, dopo una vita trascorsa insieme, pensate ai genitori e figli, o pensate anche al legame coniugale, sarebbe possibile che tutto questo venga meno, che sia dissolto, annullato? No, miei cari, in Dio ci ritroveremo e i nostri legami saranno rinnovati. Cioè, come diceva Padre Cantalamessa, saranno sottratti a tutti quei limiti che segnano la vita sulla terra. Chiaramente in cielo non ci sarà più bisogno del matrimonio come istituzione, necessario in questo mondo come via di santificazione per amarsi e dare vita, ma lì ci ameremo tutti dell'amore stesso di Dio. Ma cosa dire a quelli che hanno avuto un'esperienza magari negativa, di incomprensione nel matrimonio terreno? Per alcuni potrebbe essere un motivo di spavento, anziché di consolazione, pensare che ci ritroveremo in Dio. Nel passaggio dal tempo all'eternità il bene resta e il male cade. Chi entra in paradiso, o direttamente, se già pronto, o dopo una purificazione attraverso il purgatorio, non avrà altro nel cuore se non amore. Sarà totalmente purificato da ogni traccia di egoismo, da ogni inclinazione al male. Rimarrà l'amore che ci ha uniti. Quell'amore che magari ha unito appunto due coniugi fosse pure limitato e per breve tempo. Difetti, incomprensioni, sofferenze che si sono inflitti reciprocamente cadono. Moltissimi coniugi sperimenteranno solo quando saranno riuniti in Dio l'amore vero e pieno tra di loro e con esso la gioia e la pienezza dell'unione che non hanno potuto godere sulla terra. In Dio tutto si capirà, tutto si scuserà, tutto ci si perdonerà. E che dire di quelli che sono stati legittimamente sposati a persone diverse come i vedovi o le vedoveri sposati? Anche per essi ripetiamo la stessa cosa. Quello che c'è stato di amore vero con ognuno dei mariti e delle mogli non sarà annullato. Lassù non ci saranno più rivalità in amore, gelosie o invidie. Mi piace concludere con una bellissima storia raccontata da padre Cantalamessa che riassume splendidamente tutto ciò che vi ho detto. In un monastero medievale vivevano due monaci legati tra loro da una profonda amicizia. Uno si chiamava Rufo e l'altro Rufino. In tutte le loro ore libere cercavano di immaginare e descrivere come sarebbe stata la vita eterna nella Gerusalemme celeste. Rufo che era un capomastro se la immaginava come una città con porte d'oro tempestata di pietre preziose. Rufino che era un organista la immaginava tutta risonante di celesti melodie. Alla fine fecero un patto. Quello di loro che sarebbe morto per primo avrebbe chiesto al signore di tornare la notte successiva per rassicurare l'amico che le cose stavano proprio come le avevano immaginate. Sarebbe bastata una parola. Se era come avevano pensato taliter cioè tale e quale. Se era diversa aliter. Una sera mentre era all'organo il cuore di Rufino si fermò. Rufo pregò, attese per mesi e finalmente nell'anniversario della morte ecco che in un alone di luce entra nella sua cella Rufino. Vedendo che tace è lui a chiedergli taliter è così vero? Ma l'amico scuote il capo in segno negativo. Disperato allora grida aliter è diverso. Di nuovo un segno negativo del capo e finalmente dalle labbra chiuse dell'amico escono uno splendido sorriso e due parole totaliter aliter è tutta un'altra cosa. Rufo capisce in un lampo che il cielo è infinitamente di più di quello che avevano immaginato e di lì a poco muore anche lui per il desiderio di raggiungerlo. Il fatto è una leggenda ma il suo contenuto è quanto mai vero. Cari fratelli e sorelle che il Signore ci dia la grazia quando un giorno varcheremo le soglie dell'eternità di poter dire e sperimentare anche noi totaliter aliter è tutta un'altra cosa e che ci doni la grazia già ora di scoprire che vivere alleati con lui è tutta un'altra cosa, che vivere secondo l'amore è tutta un'altra cosa, che fare della nostra vita un dono d'amore è tutta altra cosa. Lo auguro di cuore a me e a tutti voi che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!